Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Che sta a fa'? Ui 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 ui! Che stai facendo? Scendi da là! Non ti preoccupare Dani, Dani unisciti sul Discord mi raccomando E collega l'account Grazie da farlo di cura per stasera Dani e benvenuto Però i brividi è una cosa positiva, però ho capito nel tuo caso no? Chris, hello! Ho visto che qualcuno ha salutato Chris, Paolo tipo Joy it up, grazie E' proprio grosso! Mamma mia quanto cazzo è grosso! Ma è enorme! Come fai ad averlo fatto così enorme? E' proprio grosso il panino ragazzi Madonna, guardate quanto è grosso! Guardate quanto è grosso! Sì! Gira il collo così mi ammazzo! Sì! Gira il collo così mi ammazzo! Gira il collo così mi amm- Gira il collo così mi amm- Se non ci si è... Sì! Ehi, ehi, ehi.